Alla base dell'aggressione con coltello e acido di sabato mattina a Forlia e i danni di una donna, ci sarebbe stata l'intenzione della 37enne di lasciare il compagno, un moratore di 43 anni. Durante il ferimento erano presenti anche i due figli minorenni della coppia, che poi il padre avrebbe preso con sé prima di dileguarsi, lasciando la donna da sola a chiedere aiuto. Nell'appartamento di Via Salinatore sono accorsi attorno alle 11 i vicini allarmati dal trambusto che si era scatenato nell'appartamento al primo piano del condominio. Alcune persone hanno lavato con dell'acqua tiepida le ferite della donna causate dalla sostanza corrosiva, si suppone si tratti di soda caustica, e proprio questo intervento potrebbe averle evitato conseguenze più gravi. La vittima si trova ora ricoverata presso l'ospedale di Forlì e non è in pericolo di vita, anche se, oltre alle ustioni e alle ferite da taglio, presenta fratture multiple al volto. I carabinieri stanno tentando di rintracciare l'uomo e si segue la pista dei parenti al nord, nell'Astigiano, per cui è caccia in tutta Italia. Il muratore potrebbe doversi confrontare con le accuse di tentato omicidio e di rapimento.